oh finalmente di nuovo pokémon marromerda 2 ed eccolo qui con tutto il suo splendore nostro buon vecchio castano comunque non lo farò più su computer perché come vedete lagga troppo ma sul telefono infatti ci ho messo un po per recuperare tutto tranquilli stessi poche ma forse forse sono anche un po più forti l'ultima volta comunque se non sbaglio dovevamo andare qui no qui c'è un pikachu che devo tagliare mi sembra mi sembra mi sembra no nulla ma andiamo avanti lì ci sono pokémon salvatici ma non ce ne frega nulla noi vero vero a me no e a te ciao ai coltellino svizzero vuoi scambiarlo con double check no non ho nessuno dei due comunque è un esimo tunnel lì finì a gettano ma tanto castano è over power quindi ce lo fa subito capita spesso che qualcuno pisci sul muro nella via sotterranea per questo mi sente sempre il tipico odore di urina dei sottopassaggi e non fa una piega come ragionamento e tu è già che rompe pensavi di evitarmi essi lo pensavo vogliamo bull idol il buon vecchio bull idol che non si smentisce mai sin da qui non si evolverà né adesso né mai perché spero e porca droga eh subito cattepi guarda uno spu fuori pirla letteralmente e ora bull idol bull idol l'ennesimo bull idol ha resistito questa volta ma non resistere il secondo colpo di un sin da qui finito no scherzi no non scherzo mi piacciono gli incendi tornerò al bosco smer... 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 eh non l'avete cambiato qui pokemon smeraldo a cercare pokemon tipo colottero ecco bravo vai fuori dalle palle spyro 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 vediamo un po com'è tu vecchio di merda che fai qui draw... drawdown cazzo ho una marea di consegne imminenti il programmatore mi ha messo qui a fare niente la buona volta con cazzo che disegno per lui perché fatti cazzo scusa scusa ero di passaggio donate... oh cavolo un donatello non l'ho mai visto un primo... spy... bravo spyro non sei morto subito quindi scherzone non farei nulla contro il mio mini drago ah bravo ma non abbastanza il prossimo sarà già finito elementare non riesco a giusto bla 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 non frega né a noi neanche il programmatore frega quello che dice e questo scusa ma una conversazione privata e allora non stare qui in mezzo alle palle non si smentisce mai leona o leonardo ma quanti ne ha quanti ce ne sono manca solo michelangelo donatello leonardo e poi chi era l'ultimo l'ultimo rinfrescato mi ha fatto un ma così da un ma si mi ha tolto due 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 27 salva 27 bello raffa... ah raffaello ecco chi non colpo coda mi dispiace ma non riuscirei a contestare un mister henghi fatto interamente di merda che odio perdere come tutti bla 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 ne agastro a chi frega avevo i frega no a me frega no a te frega non ti ho mai visto in giro sei in gamba il sicuro più di te sporco figlia mosche piglia mosche ma non sei mai vista una butterfly ok questa era squallida questa era squallida un burro con le ali paralizzante sinne che è stato paralizzato è già tanto che non muore super suono sin da qui ah è così confuso no no perciò avessero cambiato tipo è così stupido da accupirsi la roba così ma sto divagando bracere che ha già confuso mia e confuso e paralizzato ci manca solo ci manca solo la pensione di invalidità qua perché se già 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 sin da qui è stupido di suo che non vince una partita neanche per sbaglio lo borrazi lo parasilli lo paralizzi lo confone e vabbè si è ammazzato da solo ma dimmi voi ditemi sì dimmi voi e canale canale chiuso adesso cosa è successo ma incornata ok hai sconfitto e umiliato e cambia e cambiate le mutande che la pu**a si sente da qui detto da castano il mio pokemon è debole o sono un disastro io entrambi entrambi aspetta no 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 sin da qui mi serve vivo che casino sto facendo ma si giusto giusto ma io evito figlio di p*****a volevi parlarmi ma chi ti conosce e tutti che si intromettono spyro non farai niente perché anch'io uno spyro più potente più forte del tuo mi farò uno spyro tutto mio con un blackjack e quello di lusso cheat sapete da chi e questo qui la qui lavati perché io non lo trovo un qui lavati perché però è la sua evoluzione spero ce l'ha 16 sto figlio di troia perché io no non dimmi che si evolve per felicità no è no se è così io sono potuto non ho cominciato io invece sì per sicurezza deve portare pokemon con me ma nemmeno con tutto il pokedex avresti speranze tendo che il gastano è esperto nel dare consigli alla gente stupida hai visto la mn hanno ancora dal porto o il biglietto gizzo ricco sei attento la gente di questa città all'umoresmo di un bambino delle elementari non farti coinvolgere me ne starò attento me ne starò attento perché parlo così male non ho mai avuto disegnato di lottare di nuovo con un allenatore genco intratto mai ma mai nella vita proprio pazienza prendi questo cazzo con questo puoi trovare gli allenatori che vogliono andare in città per usarlo però devi ricaricare la batteria e si si come l'altro stai fermo le uova le uova le uova perché gioca su non siamo qui a scaccolare i trichetti la cosa bella di pokemon è che curano qualsiasi cosa anche il cancro con quella bellissima jingle con quel bellissimo jingle a casa a casa nuova sono sempre avete capito perché no adoro pescare ea te piace la pesca aveva detto sì perché sennò non mi dava l'amo ottimo mi piace tossire quindi questo è pesca coraggio ottiene l'amo merda quindi cosa vuoi che pesco neanche neanche le ciabatte pesco da quanto fa schifo sto amo su questo terreno costruisco un edificio i miei pokemons stanno mille della terra sono stato qui nel? I pokemons stavano già nivelando il terreno secondo me non cambia abbastanza per vedere l'edificio costruito si si ma si si sembra stessa roba con dentro è la prima casa che ho visto si tu questa è la redazione di colorado è un programma molto divertente non trovi no no beh allora si vede che non hai bisogno di quella che ho dato cazzo allora si lo sapevo la comista più raffinata che si trova i giorni d'oggi sai i comici sono tutti passati attraverso una curata selezione effettuata da mia figlia anna di 11 anni ecco perché e poi il conduttore paolo ruffini non vorrei esagerare ancora meglio di quello che faceva la ruota della fortuna mai che qualcosa si e sapete già sapete da tutto voi vabbè visto che sei un fan spiegato di colorado e viste le tue condizioni fisiche ti regalerò questo il buono sedia a rotelle con questo buono potrei comprare una sedia a rotelle del negozio a post it town così riposerai le tocchiappe secche fine io adoro il mio stile devi vedere com'è contento quando l'appraccio secondo me è più un grido di desperazione e questa io sono raffinato tutti i comici complimenti cazzo eh già già il mio picco c'è molto più carino di questo ma sono tutti identici fammi vedere picca picca è sto cazzo e questo il la sua faccia implora pietà in effetti dai non ha tutti i torti questa ciao ai spero vuoi scambiarlo con vuoi scambiarlo con whatsapp no che sfortuna fottiti scatta porto di nido del culo e questo avviso il percorso 12 può essere bloccato da un po come l'ho aumentato deviazione per la vendonia eh non l'avete cambiato guardate polizioni aranciopoli mi dispiace grotta e qua è una poca bomba salì sveglia la metodo e cazzo mi pare dove stanno qui a tu voglio scrivere messaggi con chiunque scarica whatsapp o mio dio forse francesco sole mi ha contagiato o il mio pg volerà a nord per portare una lettera da ferronopoli ma manda una mail non siamo mica hogworth cara caro pp spero di vederti presto saputo che hanno rubato il fossile del monteluccio qui tutto bene per ora è tipo come dire mi hanno allora se mi sono svegliato la mattina avevo mordato hiroshima mi hanno sparato sono andato in ospedale e sono caduto dalla macchina però tutto bene alla fine è stessa cosa e qui qui che fai tu il titaniker chiamato la nave di sogni e lo era lo era davvero si decisamente ah già hanno lo ha fatto e anche io l'alzheimer come che stanno tu cos'hai da dirmi mi sa che non devi passare di qua ma ma chi ti ha il diritto di dirmi ste cose nazareth nei nostri ruoli ruota a fuoco quella ruota no non si abbina per non si abbina per un cazzo perché non sto zitto li tolgo quasi più con le bracere che con la ruota a fuoco sin da qui ha un attacco che fa ecco quell'attacco uno sputo di fuoco cosa non può essere invece lo è lo è dimmi ho fatto tutto il possibile non ho rimpianti è quello che ha detto castano al no sono allenatore da poco ma penso di poter vincere pensi male pensi davvero davvero male j jack spiro jack spiro ma sparati ma sparati jack spiro ma neanche nei miei incubi vien fuori da roba simile no a stacciondolando stacciondolando credo che sia abbinato a quello del film capite capite io ma barracobal barracobal non è né barracobama né bar ne ballo barracobal bravo e volviti ti prego almeno fammi fammi sto piacere no tu hai perso merdaccia e non si volve schifo schifo vabbè spyro mister henky tutto questo qua se dopo guardate come quanto veloce corre io l'aspetto qui e ho fatto bene i miei pokemon dovrebbero essere pronti ormai pensi male anche tu pensano male tu conti lino svizzero dove l'hai trovato non ditemi in svizzero incornata perché cornuto spiro e cornuto spi 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 come si pronuncia spiro e cornuto joystick o cavolo un joystick e di tipo no dovevano farlo di tipo acciaio perché veleno spina non riesco a capire perché veleno spina dai fammi volvere grazie 25 aero assalto ora sono i vostri aero assalto fortissimo evolviti evolviti ma i pokemon dovevano stare in forno in forno ancora un po ma io cercare di più buoni e questo è sì questo qua si è distratto sfide non ho mai abbastanza io sì mi avete rotto il cazzo giusto giusto ma mai dichiarazione fu stata più no no intendevo mai dichiarazione fu stata più bella italiana italiasco italiasco non italiese addirittura oddi si oddi c'è soffritto lì cipolla l'avete capita non fa ridere comunque azione fallo fuori dai veloce non fare il fintimbali lo fa non fare il fintimbali lo sappiamo che non sei paralizzato lo sappiamo bravo evolviti no no tu non ti evolvi ho avuto la mia occasione vediamo cosa mi dice non puoi essere un codardo nel mondo di pokemon lo sei stato sinna qui fai qualcosa difesa lì ma tanto vale dirmi è un oggetto di a nessuno sei un elettricista in questo gioco come no meccanico vuole perdere è lo skit è lo skit è lo skit su serio e l'ho scioltato l'ho scioltato sono fortissimo leona è l'ennesimo leonardo che mi trovo davanti oh oh quando mi toglie non vale davvero non vale davvero oh cazzo sono fottuto provo con azione vai azione che schifo è mega pugno oh cazzo uso usa e si la forza di vai fagli un brutto colpo brutto colpo tua madre è una puttana veramente non riesce a fare un brutto colpo vabbè vai vai fortissimo incornata via prossimo tipo in finale no il mio incubo moduli merda no ma di che tipo è di che tipo è io non riesco a capirlo voi lo sapete ditemelo scrivetemi un commento io non so che cazzo tipo è vediamo oh l'unica roba qui non è inefficace ma sinceramente che cazzo sarebbe moduli merda è un moduli è un merdino nel non lo so wow sei una scheggia avevo letto scoreggia vorrei tanto lavorare ma qui non servo nessuno giusto filosofia di vita vai mister merdenchi e mi aspettava in piedi scommettiamo sulla tua sconfitta forse non mi conosci io sono il grande castano conquistatore di pop poliswag la cosa più divertente è la bocca messa così non non tanto gli occhiali neanche la code neanche neanche la spirala è messa lì a caso tutto di se lo voglio mister rancho al 28 ic si gratta checchia non gli ci usi per zanna capito perché io l'ho capito e voi mister ranchi ma noi per zanna è o che pirla ok no sono io il pirla cazzo cazzo veramente fa niente ma tanto niente può piegare il mio spiro avanti attaccalo bravo una volta che mi obbedisce ho sconfitto a cp che signora tu sei che sei forte e beh io sono il grande castano il pokemon sono vita e vivere a giocare non credo che non credo di aver capito e questo qui invece cosa vuole attenzione sto posando dei cavi e allora perché cazzo mi spidi ma questo gioco da un senso alle e di greca è un magica perché sono piantato per terra con la forza e che sta cercando di uscire no dai sin da qui no se perdi questa io giuro che ti guau ma dai acqua acqua terra quanto 5 euro che acqua terra quando scommettiamo a me ma sei un figlio di puddana allora dai io butto io uso cosa cazzo uso non ho niente qui portabacchie boh baccherà neanche ma baccheranza mi va fuori uso niente muoio esatto mister mister merdenchi ho già giocato con mister henchi si si ho già giocato e sconfitto fine attuali elettricità pura e cos'è da dirmi bisogna risparmiare l'attricità mi raccomando spargi la voce no dai si si va di con questo qui con questo qui non posso permettermi di perdere tutto ma non questo non ho ancora mai vinto devi essere fortissimo no su serio qui lava qui nei si e io pensa ram ramna gian ma ramna l'avete capito l'avete spero spero di sì no sì no vabbè fa niente e prossimo kree ok questo questa era bella anche se te krill e ghastly non non io lo voglio lo voglio adesso subito dove lo trovo e me l'immaginavo sei iper spicace chissà quando riuscirò a vincere una lotta no non oggi e questo chissà perché c'è una c'è una roccia in mezzo a nulla così che tu cosa stai aspettando la pensione anch'io devo recuperare sono perduto l'antico sono perduto l'antico sono perduto sembra un film di indiana jones crash ma e lo sprite potevano farlo un po meglio però perché proprio lì di lato buttato come uno stecco acceleratore questo non mi piace è comunque attenzione sin da cui è riuscito a resistere a un calcio fake o cazzo fake crash questa non me la specche incornata e vabbè ma allora fai veramente scagare scagare mi raccomando scagare spire 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 stutte esse qua davanti incornata e mio dio e forti quanto è forte ecco è di tipo lotta probabilmente sì il mio valore sono la mia famiglia la prostituzione la gazzosa elementi di vita la fortuna del principiante se decisamente niente questo qua che gira intorno lo fermo non voglio far giocare un po mister henkey dai è qua tutto solo a non fare nulla lol fermato sono primo della classe e quando siete in classe io no no geodule no il mio incubo non lo voglio più vedere vedete che c'era un bug lì che ci sfocava tutto è un bug del gioco non nel mio computer che è marcio si è marcio lo stesso però il bug c'è lo stesso anche nel gioco quindi sono riuscito a uscire un geodule senza morire una volta sin da qui mi sta questo qui sa già che pokemon ho trovato e me li sta mettendo davanti qui lavati questo qui non ce l'ho questo non ce l'ho mega pugno e immortale azione dai 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 via è scompito un miliardo eh accidenti devo rinforzare i miei pokemon vediamo cosa mi dice c'è un pokemon grasso che sciuta dei monti è forte catturalo tutto qui pensavo ci fosse una battuta qualcosa di simile mi sento no e questo che mi dice fondo di guardia ma non c'è niente a controllare quindi senza farmi vedere dal mio collega qui di fronte ma che schifo devo andare a post it down per proseguire c'è un tunnel ma questo gioco in giro da 96 è possibile che non è ancora imparato e io ho chiesto scusa non chiedo più cerco joystick vuoi schermelo condizionario no decisamente no ciao ti ricordo di me sono un'assistente eh hai meno trenta specie allora gasta si va beh ti chiede vabbè aspetta vabbè ah è vero io ne ho che durati tre che bastardone che sono comunque vediamo un po il tipo che ci diceva c'è un pokemon addormentato che blocca a me sembra majinbu a voi non dirmi che è veramente lui vabbè ma cerchiamo un po di pokemon salvatici che non ho cercato neanche limone limone che come si come si legge limone poi va hai già preso cosa ci dice sul limone e già lui assi da solo spremi sotto la lingua farei faccia da disabile in realtà oh cavolo un raffaello non si evolverà in nulla scommetto comunque no non lo voglio non mi piace vediamo un po cosa ci dice è la testa a casa del gruppo un guerriero aspetto nella pratica è molto determinato nulla di importante che peccato patata moon patata moon patata moon si questo forse forse lo forse lo allenerò ma proprio forse non garantisco nulla ok se ne trovano molti molti nei campi ad ad a mcdonald ma viene spesso usato per indicare si war war torto l'avete capita l'avete capi io mi spio mi sparo in testa un giorno per via di queste battute del cazzo va bene fa niente comunque io allenerò war torto molto probabilmente e finisco qui l'episodio perché 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 il telefono mi sta per esplodere quindi mi è mi sorri ma ciao a tutti e aspettate di war torto e va fine e pokemon più forti forse nell'evoluzione di la sin da qui ma non penso si evolverà comunque ciao a tutti i prossimi episodi